ed eccoci tornati nella sezione di racing time e vengo subito a presentarvi gradito ospite il ritorno di mario peserico amministratore delegato di eberhard italia ciao mario ciao e non sei venuto solo perché hai portato una bellissima alfa 1.9 super leggera perché questa fantastica vettura ma perché dopo tanti anni di di gare sostenute come sponsor devo dire che ci siamo anche appassionati a degli oggetti che sono diventati di culto e che sono fanno parte della storia e della cultura italiana e mondiale dell'automobile poi al farmeo in quegli anni ha prodotto macchine eccezionali questa secondo noi è una di quelle di grande eleganza e quindi l'anno scorso ce ne siamo dotati per per affrontare anche quelle alcune delle gare che sosteniamo e ti chiedevo perché di alfa romeo perché mi sembra più l'altro ieri a basilea di fronte al tuo stand c'era questa bellissima alfa romeo 33 stradale un altro oggetto di culto sia nelle forme che nella meccanica quella addirittura quasi unica no perché sono stati fatti pochissimi prototipi e devo dire che una macchina dalle caratteristiche incredibili perché sembra attualissima pur avendo 57 58 anni questa è una macchina che in qualche modo fa parte di quelle macchine di quella decade di quel decennio che hanno incominciato a avvicinare il consumatore l'acquirente all'automobile in quegli anni si arrivava dalla seconda guerra mondiale non tutti potevano e questa è una delle macchine che è diventata un po culto di quegli anni in questo senso c'è anche una relazione con l'orologeria perché in effetti la stessa cosa accade con l'orologeria gli anni 50 e i primi anni 60 divennero il momento in cui furono il momento in cui l'orologeria divenne più alla portata di un maggior numero di persone e in effetti anche per quanto ci riguarda sono stati gli anni in cui alcuni dei nostri orologi un po pietremiliari sono stati prodotti ecco perché poi andremo giustamente a parlare anche di orologi ma come si svolgerà la stagione a quattro ruote in casa eberhard come ti dicevo per noi terra di canossa è stato un po il primo il primo evento abbiamo poi una gara importante una manifestazione importante in svizzera a brunnen appena appena dopo il gottardo le mitiche di bassano a giugno bassano che prevede solamente barchetta sono circa un centinaio di auto ed è molto bella ovviamente con gli scenari delle dolomiti davvero stupenda e per finire poi con il nuvolari a settembre e classic team sempre in prima linea sempre con una presenza importante come quanti siete adesso nel nel gruppo ma soci sono all'incirca una ventina di equipaggi poi non tutti partecipano tutte le gare però al nuvolari che è la gara più importante dal punto da questo punto di vista anche perché la sede del classic team è mantova appunto alla gara di nuvolari partecipano all'incirca 12 13 equipaggi di solito non credo abbiano ancora finalizzato tutte le iscrizioni c'è ancora tempo ma sarebbe bello se arrivassero meno una quindicina si è appena concluso il gran premio terre di canossa ancora una partecipazione variegata una gara interessante 75 prove crometrate anche quest'anno vi siete divertiti sì devo dire che il livello tecnico è sempre elevato perché 75 prove sui due giorni e mezzo di gara sono davvero parecchi quindi gli equipaggi sono messi a dura prova la provenienza favorita anche dal dalla collocazione temporale fra la pasqua il primo maggio è stata ampia era limitata a un massimo di 100 equipaggi e di origine diversa nel senso non solo italiani ma anche stranieri io credo che abbiano goduto di di panorami davvero spettacolari c'è stato insomma da da moda in reggio emilia passare sulla costa toscana quindi attraversando gli appennini e poi a ritroso davvero scenari molto belli come sempre qui mi hanno la redazione mi ha appoggiato sul sul mio banchetto questo orologio un extra forte uno delle novità una delle due novità importanti di basilea tra l'altro una commemorazione festeggiamo i 150 anni di gavrile d'annunzio sì direi che il legame anche se apparentemente non non c'è anche in questo caso un legame con l'auto perché oltre a essere stato un grande poeta una grande personalità della fine dell'ottocento dell'inizio del novecento d'annunzio ha un legame particolare e unico con nuvolari perché fu colui che gli regalò quel portafortuna la famosa tartaruga che nuvolari poi fece divenire il proprio simbolo e lo fece con quella famosa dedica che era all'uomo più veloce l'animale più lento d'annunzio credevamo crediamo meritasse un ricordo e quindi abbiamo ritenuto di commemorarlo con un orologio che fosse l'extra fort perché il nostro orologio storico quindi che in qualche modo è legato a quegli anni e soprattutto c'era piaciuto anche il uno dei motti di d'annunzio che è quello che hai iscritto sul quadrante e sul fondo dell'orologio che è ardiscono nord disco quindi c'era piaciuto molto questo legame senti da c'è anche una breve scheda tecnica di questo di questo orologio e se è un orologio come succede a volte è in una tiratura limitata sì questo è il nostro l'extra fort cronografo due contatori quindi abbiamo scelto un quadrante nuovo unico disegnato apposta con questo contatore a ore 3 con la cornice bianca e appunto l'iscrizione al disco nord disco come giustamente ricordavi poiché rappresenta i 150 anni della nascita abbiamo deciso di farne solamente 150 esemplari che appunto verrà messa sul mercato e consegnata a chi l'ha prenotato ai primi di settembre senti e sempre tornando a basilea mi è caduto l'occhio sull'orologio che hai al posto perché era anche c'era anche una gigantografia dietro all'alfa 33 che esponevate nel vostro stand di questo conto grafico anche in questo caso raccontami qualcosa di questo pezzo che ripeto a me è piaciuto veramente tanto sì noi abbiamo così una storia che è fatta della nostra tradizione dei prodotti che abbiamo introdotto nel negli anni storici della nostra azienda quindi a incominciare dagli anni 30 e una storia più recente fatta di sviluppi tecnici come per esempio il crono 4 l'otto giorni e abbiamo ritenuto di creare una sorta di ponte fra questi due mondi un po diversi ma che fanno sempre parte della nostra della nostra storia attraverso la riedizione di modelli storici con l'extra forza lo facciamo dal 99 e lo facciamo anche con questo modello dedicato ad annunzio abbiamo aggiunto il conto graf che proprio alla fine degli anni 50 inizio anni 60 aveva visto la luce e che in questa occasione abbiamo ripresentato e lo abbiamo riprodotto fedele a quelli che erano alcuni particolari dell'epoca in particolare ce n'è uno che mi che mi piace raccontare ed è quello del contaminuti del contatore contaminuti che ha delle sezioni di tre minuti ciascuna ben marcate che rappresentavano i tre minuti dello scatto telefonico e all'epoca e berard aveva fatto appunto la in modo che questa segnalazione potesse essere anticipata dal cronometraggio posizionamento di prezzo perché a volte magari ci dimentichiamo di questo particolare che l'utenza i nostri telespettatori sono anche curiosi di sapere con il caso del conto graf siamo all'incirca 3 mila e 800 euro col centro del cocodrillo prezzo crediamo abbastanza ben collocato sul mercato senti mario grazie grazie di stato ancora qui con noi grazie di aver portato questo gioiello a quattro ruote prossimo appuntamento magari non so ti vedremo al posto che con l'abito gessato con la tuta a raccontarci con gli occhi impolverati come faceva stazio nuvolari al nior sono a raccontarci la tua prossima avventura quattro ruote sarebbe bello non fare gare solo su asfalto ma anche su terra sarebbe divertente piacere grazie ancora e cari telespettatori rimanete ancora con noi perché adesso andiamo a seguire le news dei campi gara della settimana grazie a tutti